Ed eccoci siamo ritornati in studio ancora grazie e benvenuti nuovamente in questa serata ancora dedicata ovviamente alla Pasqua avete visto una prima parte della nostra serata davvero scoppiettante davvero magica ma il meglio deve ancora arrivare sempre in compagnia del nostro mago John adesso arriva il vero spettacolo signore e signori il mago John Grazie 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 Ed ecco qui questo meraviglioso spettacolo grazie grazie al mago John per avere festeggiato con noi ovviamente la Pasqua lo ringraziamo davvero John grazie 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 per essere stati con noi e ci vediamo con Angoli domani Grazie